prendere la staffa a muro e spezzarla con le mani per il montaggio delle staffe fare riferimento all'istruzione di montaggio agganciare il pensile alle staffe a muro rimuovere le placchette di copertura per permettere le regolazioni girare in senso anti-orario la vite inferiore di antisgancio del pensile agire sulla vite superiore per regolare il pensile in altezza di più o meno 6,5 mm agire sulla vite centrale per avvicinare il pensile al muro per la regolazione orizzontale è possibile avere un'escursione massima di 7 mm una volta concluse le regolazioni girare in senso orario la vite inferiore di antisgancio del pensile